Una serata fatta ieri sera qui nel comune di Mappano per la legalità e per la sicurezza. I gruppi consigliere di minoranza uniti assieme per cercare di trovare una soluzione a questo problema. Qui oggi con noi abbiamo Walter Campioni che fa parte delle minoranze e che è stato uno dei promotori della serata di ieri sera. Walter, cosa ci puoi dire della serata di ieri? Una serata estremamente positiva e partecipata. Erano anni che a Mappano la sala Lea Garofalo non era così piena. Le persone se ne sono andate via dopo due ore e mezza di dibattito partecipando e ponendo questioni. Nessuno è andato via durante il dibattito. Questo significa il massimo interesse rispetto alle questioni poste. Riassumendo, di fronte al fatto che per quanto riguarda la sicurezza, la questione della repressione che in capo ai carabinieri sta funzionando molto bene, l'aumento dei furti e dei piccoli atti vandalici significa che a Mappano non funziona, fa tutto l'aspetto legato alla prevenzione. L'aspetto legato alla prevenzione bisogna affrontarlo e bisogna affrontarlo con una serie di provvedimenti che noi abbiamo proposto. Le nostre proposte sono quello di istituire un comando di vigili urbani con dei numeri decorosi come avevamo quattro anni fa. Questo vuol dire passare da un vigile un'ora a settimana, fa una pattuglia di vigili a spot, ad almeno quattro vigili, fa più il comandante. L'altra proposta che ci siamo sentiti di fare è quella di avere una pattuglia di vigili serale, questa la si può ottenere attraverso un convenzionamento, fa con la città di Torino. Inoltre fa il far funzionare e il potenziare le telecamere, questo consentirebbe di monitorare chi viene e chi esce dal nostro territorio. Inoltre fa tutto l'aspetto legato all'illuminazione pubblica, significa dare più sicurezza percepita ai cittadini. Il nostro percorso è un percorso che continuerà da domani perché noi nella prossima settimana depositeremo una mozione. Quando la maggioranza presenterà il proprio bilancio noi cercheremo di integrare e di cambiare l'allocazione delle risorse. Visto che Mappano, con l'istituzione del nuovo comune di risorse, ne abbiamo molte, il comune attualmente non è in grado di spenderle. Inoltre ci siamo impegnati con noi, perché siamo cittadini di Mappano, e con i cittadini di Mappano, a riaggiornarci tra due mesi per fare un punto della situazione sulle cose che siamo riusciti ad ottenere. Nella serata di ieri abbiamo una persona che ha subito queste frizioni, questi furti, ha voluto testimoniare la sua personale vicenda. Lo ringraziamo perché mettersi in gioco e voler raccontare quello che ha subito non è sempre facile. Buon pomeriggio a tutti. Io purtroppo sono stato reduce da due tentati furti, di cui uno è stato fatto il 17 gennaio alle ore 20 e un quarto di sera, quando si presume che tutte le persone a quell'ora cenino e sono in casa. Io non c'ero, non ero in casa e devo dire grazie al tempestivo dei miei vicini, che sono subito accorsi quando hanno sentito dei rumori che hanno divelto le gelosie della mia abitazione e in più dopo è scattato l'antifurto, hanno chiamato tempestivamente i carabinieri e in più questo ha fatto sì che sono scappati immediatamente i ladri. Non contenti di tutto ciò, dopo 15-20 giorni sono tornati con me all'interno dell'abitazione. Altra due colpi sulle gelosie per vedere se c'era il sistema di antifurto e nel frattempo che io accendo la luce e apro la porta sono scappati come delle gazzelle, diciamo, anche perché sappiamo che si arrampicano anche dei tubi del gas sui palazzi. Come si vede qui intorno abbiamo delle abitazioni molto basse qui in Mappano e quindi molto facile da raggiungere per questi delinquenti. In più è inammissibile che in un nuovo comune come Mappano purtroppo non abbiamo un comando di polizia locale o per ben dire abbiamo un vigile che è a spot e in più un'ora o poche ore alla settimana. Nella serata di ieri lei ha elogiato comunque le forze di polizia dei carabinieri di Lainì? Certo, io sono molto grato ai carabinieri di Lainì perché ho avuto modo, e li conosco, ho avuto modo di parlarci alquanto ci sono stati e ci sono vicini in questi frangenti, in questi mesi da gennaio, diciamo da prima di Natale. vedo che sul territorio sono molto presenti, ho avuto modo di parlare appunto anche col comandante della stazione dei carabinieri di Lainì, una persona molto preparata e molto efficiente che ha dato la sua prestazione sul territorio come non si era mai vista. Io da 10-12 anni che sono qui a Mappano non avevo mai visto praticamente dei posti di blocco nel nostro comune, o per meglio dire nella nostra ex frazione. Infatti quando eravamo un'ex frazione sotto il comune di Casella e sotto gli altri comuni praticamente non si era mai visto dei posti di blocco. Sì, c'era il controllo ma non come in questo modo. e oltretutto sollecito tutti i cittadini a qualsiasi cosa, qualsiasi persona sospetta, qualsiasi cosa che ci possa recare un dubbio di chiamare subito l'arma dei carabinieri perché per noi magari quando vediamo una macchina sospetta o una macchina che si ferma, poi riparte, che staziona sotto un'abitazione, magari per noi può essere una cosa di poco ma per l'arma dei carabinieri penso che dando il numero di targa e segnalando questa macchina può essere molto. Walter Campioni, in chiusura, nel corso dei prossimi mesi con i consigli comunali voi non intendete fare un'opposizione a queste cose, alla attuale maggioranza ma cercare una collaborazione? Ma noi non, cioè noi siamo, ci siamo candidati per costruire il comune di Mappano purtroppo su molte cose, molti servizi sono venuti meno la nostra funzione non è quella di far cacciare la nostra funzione è quella di proporre delle soluzioni condivise con i cittadini ieri abbiamo condiviso con i cittadini di Mappano 4-5 punti e cercheremo di tradurre questi 4-5 punti in atti concreti nell'interesse di tutta la cittadinanza Grazie! Grazie a tutti.